Buongiorno a tutti, allora ci troviamo in quella che è la stazione di Gaggiano sembrerebbe un campo, seguitemi dal 2011 che è stata praticamente inaugurata, è stato inaugurato il raddoppio della ferrovia porta a Genova direzione Alvairate, qua ci troviamo in una situazione ancora nel 2017 siamo a marzo del 2017 con un'aria, parcheggio molto grande come vedete in completo stato davanti si parla di un investimento per risistemare questa area, questo parcheggio di 120.000-150.000 euro circa per poter adoperare questo parcheggio dovevano costruire una rotonda una rotonda di accesso che è stato soltanto costruito l'anno scorso qui come vedete questa è l'area praticamente dove potrebbero parcheggiare potrebbero sostare circa 200 autovetture, 200 macchine in meno verso la città di Milano allora questa è la famosa rotonda rotonda con tanto di cartello all'ingresso delle stazioni la rotonda è stata fatta dopo sei anni di attesa sei anni di attesa nel quale la stazione di Gagiano è rimasta in stato d'abbandono giustamente perché dovevano fare la rotonda ora la rotonda c'è dopo un anno è stata realizzata sempre l'anno scorso a settembre ci auguriamo adesso però che non passe troppo il tempo quello che a noi ci interessa, a noi cittadini è che questa cosa venga soluzionata il prima possibile abbiamo una situazione di traffico molto impegnativa in quello che è la viabilità sulla nuova Vigevanese vogliamo soltanto risposte basta di attendere questa rotonda è costata 1.075.000 euro vorrei chiedere a chi ha la competenza di intervenire di non lasciare perdere questa situazione amministrazione, FRI, città metropolitana, regione Lombardia non lasciate che ancora vada avanti il degrado di quest'area questa area è importante sistemiamo questa situazione sistemiamo la situazione della rotonda perché anche la rotonda purtroppo anziché creare e portare soluzioni a quello che è la viabilità ha creato più disagio vi saluto a tutti vi terremo aggiornati sulla situazione della stazione, del parcheggio e di questa rotonda saluti a tutti buongiorno